Self Publishing Master Podcast Episodio 31 Ciao, benvenuto da Carmen Laterza a questo nuovo episodio di Self Publishing Master. Oggi parliamo del blog per uno scrittore, cerchiamo di capire come fare a trovare sempre nuove idee per scrivere articoli per il tuo blog e io oggi di idee te ne voglio dare addirittura 13. Già in un episodio precedente abbiamo visto quali sono i motivi principali per cui uno scrittore dovrebbe avere un sito web. Avere un sito web secondo me è un passo importante che ogni autore dovrebbe fare però come ho già detto costruire un sito o addirittura pagare molti soldi per farselo realizzare e poi non sapere cosa metterci dentro è assolutamente inutile. Allora fai il tuo sito web soltanto quando hai una strategia completa in mente quando hai un piano d'azione. Il tuo sito web infatti deve essere la tua casa di scrittore cioè il luogo dove tutto ciò che riguarda te come autore e i tuoi libri trova spazio e risonanza. Comprare un dominio e realizzare un sito oggi con gli strumenti e le tecnologie a disposizione sono passi semplici alla portata di chiunque. Ma il percorso a cui tu devi guardare è un percorso ben più complesso che consiste nell'impostare come dicevo prima un piano d'azione, un piano editoriale dettagliato e soprattutto a lunga scadenza. Non c'è errore peggiore di aprire un sito e poi lasciarlo vuoto o non aggiornato. Un blog è l'anima del sito web. Un sito web sicuramente sarà una vetrina dei tuoi libri, delle tue attività di autore ma deve contenere assolutamente un blog. Cioè una sezione dedicata ad articoli che tu con costanza e regolarità scriverai e pubblicherai. Per te che sei uno scrittore tenere un blog non dovrebbe essere difficile perché in fondo si tratta di scrivere. E poi tenere un blog ti assicuro che può essere divertente e può darti grandi soddisfazioni perché può aiutarti a dimostrare ai lettori tutte le tue competenze, anche quelle che vanno al di là della semplice competenza di scrittore. Se sei uno scrittore di non fiction, cioè se scrivi saggi o manuali, il tuo blog sarà la naturale estensione degli argomenti che tu tratti nei tuoi libri. Quindi sarà più facile per te pensare cosa scrivere per gli articoli del tuo blog. Sarà più facile per te trovare argomenti e nuovi titoli per pubblicare nuovi articoli ogni settimana. Se invece sei uno scrittore di fiction, cioè se scrivi romanzi, se scrivi racconti o addirittura se sei un poeta e scrivi poesie, allora forse devi scegliere con attenzione l'argomento intorno a cui vuoi costruire i blog. Ma questo passaggio deve essere fatto. Devi stabilire con chiarezza qual è l'argomento che vuoi trattare nel tuo blog. Perché un blog che abbia un argomento vago non definito non susciterebbe interesse. I blog che parlano di tutto un po' non funzionano. I lettori sono abituati a cercare blog con argomenti specifici e sanno che devono rivolgersi a blogger precisi per argomenti precisi. Quindi quello che devi fare tu è capire di cosa vuoi parlare. Ovviamente dovrebbe essere un argomento attinente all'argomento dei tuoi libri e puntare solo su quello. Quindi non pensare al blog come ad una pagina di diario personale in cui scrivi quello che di volta in volta ti va giorno per giorno. Questa forse è una visione un po' romantica del blog. Il blog che tu dovresti fare è un blog professionale. Quindi un blog concentrato mirato su un argomento preciso. Dopo aver definito l'argomento intorno al quale devi ruotare il blog. La difficoltà maggiore è quella di avere sempre nuove idee per scrivere articoli interessanti. È una difficoltà oggettiva perché tenere un blog per lungo periodo obbliga ovviamente a dover pensare nuovi argomenti da trattare di settimana in settimana o di mese in mese. Io oggi voglio darti 13 idee per scrivere gli articoli del tuo blog. La prima cosa da fare sicuramente è scrivere articoli attinenti al contenuto dei tuoi libri. L'argomento principale del tuo blog come ho già detto sarà sicuramente l'argomento intorno a cui ruotano i tuoi libri. Quindi non dovrebbe essere difficile per te scrivere articoli su questo argomento e poi su tutti i sottotemi che puoi sviluppare a partire dall'argomento principale. Ad esempio se hai scritto un manuale di yoga potresti scrivere articoli sulle varie diramazioni dello yoga, sulla storia degli yogi più famosi, sulle tecniche di meditazione oppure sulle differenze tra la pratica che facciamo qui in occidente e quella che magari fanno in oriente, sui tuoi viaggi se sei stato in oriente per imparare davvero la meditazione e lo yoga, cose di questo tipo. Se invece hai scritto un romanzo, immaginiamo un romanzo che abbia come tema principale l'amicizia per esempio potresti scrivere articoli sul valore dell'amicizia nelle diverse culture quindi ovviamente informarti su questo oppure fare articoli sui casi più famosi di amicizia nella storia, nel mito, nei testi letterari oppure sull'importanza del legame dell'amicizia nello sviluppo psicologico della persona, del bambino. Insomma, devi cercare di sviluppare il tuo argomento in tutti i suoi aspetti, di analizzarlo da tutti i punti di vista e poi in tutte le sue varianti. Già questo ti darà sicuramente un'enorme quantità di materiale e quindi una lista già molto lunga di articoli che tu puoi scrivere per riempire il tuo blog. Un altro tema interessante che puoi affrontare per scrivere articoli per il tuo blog è l'argomento delle ricerche che tu hai effettuato per scrivere i tuoi libri. Ricordati che ai lettori piace scoprire come nasce un libro, da quale idea iniziale sei partito, come l'hai sviluppata, dove hai trovato le ispirazioni, come hai fatto le tue ricerche. Per esempio, se tu hai scritto un libro di argomento storico, hai dovuto fare delle ricerche o comunque se hai ambientato la tua storia in un luogo magari diverso da quello che vivi abitualmente. Forse hai fatto delle ricerche di tipo geografico oppure hai fatto ricerche su ciò che era già stato pubblicato, sull'argomento di tuo interesse per capire cosa già era stato detto e come quindi fare un libro innovativo, proporre la tua posizione nuova sull'argomento. Tutte queste ricerche possono essere esse stesse argomento di trattazione, possono essere il contenuto degli articoli del tuo blog. Ora che il tuo libro è pubblicato puoi svelare ai tuoi lettori quali sono stati retroscena della sua costruzione, come hai trovato le informazioni, dove le hai trovate, se hai avuto difficoltà nel reperirle, se qualcuno ti ha aiutato, quanto tempo ci hai messo, quanto invece pensavi di metterci, magari pensavi che ti servisse più tempo invece sei stato fortunato o viceversa, pensavi di metterci poco tempo invece ti ci è voluto molto di più perché le informazioni non erano così di facile reperibilità. Insomma, tutto questo può essere raccontato. Non avere paura di svelare ai tuoi lettori i tuoi percorsi e anche le tue difficoltà, perché questo in realtà ti rende più umano, quindi più vero. E ai lettori questo piace. Una terza idea per scrivere articoli per il tuo blog è quella di raccontare ai tuoi lettori le tue abitudini di scrittore. Queste possono diventare un ottimo argomento per gli articoli del tuo blog. Puoi raccontare come ti sei avvicinato alla scrittura, come si svolge la tua routine quotidiana, se hai degli orari precisi, fissi, regolari in cui scrivi, oppure se hai delle piccole abitudini legate alla scrittura o anche alla lettura, in quale luogo preferisci scrivere, a che ora, se scrivi tutti i giorni oppure no, se aspetti l'ispirazione oppure ti metti lì in modo metodico, cercando di scrivere tutti i giorni qualcosa, se prepari il lavoro prima di metterti a scrivere, impostando schemi, scalette, se fai delle schede per i personaggi per delinearne il carattere, l'aspetto fisico, oppure se decidi di giorno in giorno come sviluppare la tua vicenda. E ancora, dopo che hai scritto, cosa fai del tuo testo? Lo correggi subito? Lo lasci riposare? Correggi capitolo per capitolo a mano a mano che lo scrivi? Oppure prima fai tutta la prima stesura e poi ti dedichi all'editing? E ancora, come fai per migliorare il tuo stile? Quali lezioni hai imparato? Se leggi dei testi? Se segui dei consigli? Tutto ciò che tu hai imparato su di te, sul tuo stile, sulla tua scrittura, è argomento validissimo per scrivere articoli per il tuo blog. Ci sono tante cose da dire e ti assicuro che ai lettori tutto questo piace e piace molto. Immagina quei documentari che a volte si vedono in televisione sul backstage di un concerto o di uno spettacolo. A me piacciono moltissimo. Sono documentari che fanno vedere il dietro le quinte ed è quello che devi fare tu. Devi far vedere ai tuoi lettori il dietro le quinte dei tuoi libri per spiegare davvero chi sei. Bene, dopo queste prime tre idee per scrivere articoli del tuo blog, che in fondo sono idee che partono da ciò che tu hai già, dentro di te da ciò che tu sai già, passiamo invece a qualcosa di diverso e rivolgiamoci all'esterno. La quarta idea che voglio darti oggi per scrivere articoli per il tuo blog è infatti quella di fare delle interviste. Intervistare qualcun altro è un ottimo modo per riempire di contenuti interessanti il tuo blog. Cerca persone che condividono i tuoi interessi oppure che sono per te dei punti di riferimento nel tuo settore e chiedi loro di concederti un'intervista. Anche se ti sembrano magari personaggi troppo lontani da te, troppo famosi, inarrivabili, tu provaci, ti assicuro che molto spesso avrai delle gradite sorprese. Le persone sono spesso disponibili a concedere delle interviste perché anche per loro è un modo per far parlare di sé. Puoi fare delle interviste dal vivo se hai l'opportunità, quindi registrando dal vivo la persona, oppure puoi farle semplicemente al telefono o via Skype e poi puoi trascrivere i contenuti dell'intervista in un testo da pubblicare nel tuo blog, oppure una cosa che si fa molto spesso negli ultimi tempi è quella di mandare all'intervistato direttamente via mail le domande scritte e poi lui ti risponde via mail con le risposte altrettanto scritte. Quindi in questo caso tu non farai altro che pubblicare già il botte risposta che hai per iscritto delle tue mail, ovviamente mettendo una parte introduttiva e poi una parte conclusiva. L'unico consiglio che posso darti è quella di scegliere con cura le persone da intervistare, devono essere persone interessanti che abbiano qualcosa di interessante da dire e poi fai delle ricerche su di loro prima di intervistarle, fatti trovare preparato, quindi studia bene chi sono, che cosa fanno, quali sono i punti forti della loro attività e quindi questo ti permette di dimostrare all'intervistato di essere preparato e poi anche di fare domande pertinenti. Ti assicuro che intervistare persone del tuo ambito che condividono il tuo stesso interesse ti farà conoscere molte cose, ti darà molte informazioni utili che anche tu non puoi immaginare adesso e soprattutto fare delle interviste da varietà al tuo blog perché evita la monotonia di articoli tutti uguali e perché dà ai lettori l'impressione che ci sia un cambio di voce perché in fondo leggono te però stanno leggendo le parole di qualcun altro. Un altro modo di far parlare qualcun altro nel tuo blog, anche se in modo indiretto, è quello di fare delle recensioni. Questa è la quinta idea che voglio darti per riempire di contenuti le pagine del tuo blog. Fare recensioni, scrivere recensioni. Cosa puoi recensire? Sicuramente libri, visto che noi parliamo di lettura e di scrittura puoi recensire libri di altri autori che trattano il tuo stesso argomento o libri del tuo stesso genere letterario ma puoi recensire anche prodotti o servizi purché siano sempre attinenti all'argomento principale del tuo sito. Per esempio se sei uno scrittore e utilizzi un software particolare per scrivere o per impaginare potresti per esempio recensire anche un prodotto di questo tipo oppure se ti avvicini al mondo dei social immaginiamo che tu abbia aperto un nuovo profilo su un nuovo social nuovo per te potresti anche fare una recensione sull'utilizzo di un determinato social per gli scrittori quindi puoi recensire non soltanto libri ma anche prodotti e servizi. Una variante delle recensioni sono i confronti, cioè recensioni comparate, articoli in cui tu non parli solo di un prodotto ma di due o più prodotti o servizi e li metti a confronto spieghi i pregi e difetti di ciascuno e alla fine poi dichiari il vincitore cioè dichiari quale per te è il migliore e perché. I confronti possono essere fatti anche tra i libri soprattutto se si tratta di testi che affrontano lo stesso argomento penso in questo caso alla manualistica e allora tu potresti fare un confronto e dire quale per te è il manuale più completo o il più efficace. La regola per scrivere recensioni efficaci è sempre solo una, cioè quella di essere sinceri non serve essere bruschi, non serve essere offensivi si può tranquillamente dire che è una cosa, un prodotto, un libro non è piaciuto con termini civili però non serve neppure scrivere recensioni pompate solo per lusingare l'autore del libro o il proprietario o il venditore del prodotto tu sii sincero, racconta con semplicità cosa ti è piaciuto e cosa no. Un altro consiglio che voglio darti è per dimostrare la tua totale trasparenza dichiara sempre apertamente se il libro o il prodotto che stai recensendo l'hai acquistato tu o se ti è stato dato in omaggio non è una colpa ricevere libri o prodotti in omaggio per recensirli però se lo nascondi questo fa nascere dei sospetti quindi è meglio dirlo con trasparenza fin dall'inizio Bene, una sesta idea per scrivere articoli per il tuo blog è quella di scrivere resoconti e cronache degli eventi a cui partecipi come scrittore molto probabilmente frequenti fiere librarie, presentazioni, reading, seminari eventi di vario tipo legati al mondo della scrittura in generale o al tuo settore specifico Ecco, puoi raccontare la tua esperienza in questi eventi ed è un ottimo modo per riempire le pagine del tuo blog e quindi intrattenere i tuoi lettori con articoli che sono diversi dal solito Immagina di essere un inviato speciale, racconta come si è svolta la manifestazione cosa ti è piaciuto, cosa no, chi c'era, chi non c'era, chi non ti aspettavi e ti ha sorpreso, cosa hai imparato oppure cosa hai acquistato Se poi hai fatto delle foto, meglio ancora, così puoi corredare il tuo articolo con un bel apparato fotografico Settima idea per scrivere articoli per il tuo blog è scrivere casi studio I casi studio sono una tipologia di articolo molto apprezzata dai lettori perché forniscono dati, prove ed evidenze Le persone piacciono i numeri perché danno proprio un senso di concretezza Allora i casi studio sicuramente sono più adatti se tu scrivi manuali In questo caso puoi reperire facilmente casi reali da raccontare ai tuoi lettori oppure tu stesso puoi diventare il soggetto del tuo caso studio Si tratta quindi di fare un'ipotesi, realizzare un esperimento o un percorso e poi analizzare i dati ottenuti per verificare se l'ipotesi si è realizzata oppure no E nell'articolo che ne deriva devi rendere conto di tutti questi passaggi Spiegare come si è svolto lo studio e soprattutto analizzare e commentare i dati ottenuti Questo in fondo è un caso studio Qui puoi usare grafici, schemi, puoi fornire numeri precisi Questo ti permette anche di inserire quindi grafiche, immagini, elementi visuali nell'articolo e di dare quindi sostanza alle tue affermazioni con i numeri che aiutano sempre In fondo i casi studio servono a dimostrare con i fatti ciò che hai espresso magari tante tante volte in tutti i tuoi articoli teorici Ecco i casi studio sono come dire la dimostrazione pratica di tutto quello che tu hai già detto in teoria sia nei tuoi libri sia negli altri tuoi articoli Ottava idea per scrivere articoli per il tuo blog è raccontare storie Storie personali Siamo tutti curiosi delle vite altrui Tutti quando entriamo in edicola diamo un'occhiata alle copertine dei giornali scandalistici anche se poi non li compriamo Allora tu che sei uno scrittore devi approfittare di questa debolezza comune e devi approfittarla nel senso che devi raccontare ai tuoi lettori Innanzitutto la tua storia Con questo non intendo dire che devi fare del tuo blog la tua autobiografia che devi ammorbare lettori con tutti i dettagli della tua infanzia o devi lamentarti di quello che non va nella tua vita attuale No, però se c'è una parte della tua storia personale che può far capire meglio la tua personalità di autore o delle vicende che in qualche modo hanno segnato anche il tuo stile la tua scrittura o che hanno dato origine ai tuoi personaggi e quindi li hanno costruiti nella tua mente prima ancora che sulle tue pagine ecco questi retroscena possono essere raccontati e anzi delle di più meritano di essere raccontati come ti ho già detto ai lettori piace conoscere chi c'è dietro al libro che leggono l'autore in tutta la sua interezza l'autore come persona non solo come un nome scritto sulla copertina quindi l'uomo o la donna che c'è dietro quel libro con la sua vita e con tutta la sua complessità Nona idea per scrivere articoli per il tuo blog è quello di realizzare infografiche quindi realizzare infografiche tue originali oppure se trovi infografiche valide e meritevoli puoi inserire infografiche altrui e commentarle le infografiche sono fondamentalmente delle immagini che spiegano un argomento come delle mappe concettuali visuali hanno il pregio di tutte le immagini quello di arrivare attraverso un canale diretto che è il canale visivo e poi riescono a scomporre i contenuti complessi in elementi semplici come fanno in effetti le mappe concettuali spesso poi proprio perché sono delle esemplificazioni facili da leggere, da interpretare proprio perché attraverso l'uso delle immagini vengono condivise molto sui social quindi sono anche una tipologia di articolo che può aiutarti a creare condivisione sulla tua rete di canali sociali il consiglio che ti do è quello però di non mettere solo l'infografica lì e punto ma di accompagnare sempre l'immagine l'infografica con un testo di spiegazione quindi scrivi a parole che cosa contiene l'infografica in che ordine va letta quali sono gli argomenti che affronta e come vengono spiegati la tentazione di mettere solo l'infografica perché noi la reputiamo già completa è grandissima e lo capisco però ricordati sempre che l'immagine da sola non sempre può bastare pensa per esempio al caso in cui l'immagine non si dovesse caricare perché chi sta navigando sta sfogliando le pagine del tuo blog non ha una buona connessione ci sono problemi del server l'immagine è pesante e non si carica ecco in quel caso l'articolo sarebbe non fruibile oppure pensa anche alle persone ipovedenti e non vedenti che in realtà sfogliano e leggono diciamo così i siti web attraverso dei programmi di lettura sono programmi di riconoscimento testuale ma ovviamente questi programmi possono leggere il testo non le immagini anche questo è un validissimo motivo per cui tu dovresti aggiungere del testo accanto alla tua infografica e poi se ancora tutto questo non ti basta ti ricordo che il tuo blog ha tra i vari obiettivi un obiettivo importante che è quello di renderti indicizzabile per i motori di ricerca farti trovare dai motori di ricerca e questo lo puoi fare proprio grazie ai testi perché i motori di ricerca scansionano tutti i testi e trovano all'interno di questi le padole chiave attraverso le quali poi loro ti catalogano rispetto ad una certa chiave di ricerca quindi mi raccomando resisti alla tentazione di mettere l'infografica pura e semplice fai un piccolo sforzo di raccontarla a parole quindi affiancando all'infografica anche un testo di spiegazione decima idea per scrivere articoli per il tuo blog sicuramente le liste le liste sono una tipologia di articoli più sfruttata e allo stesso tempo anche la più apprezzata dai lettori in fondo anche questo episodio che noi oggi stiamo facendo è una lista perché ti sto elencando 13 idee per scrivere articoli per il tuo blog tu puoi scrivere liste per i tuoi lettori e divertirti in realtà scoprirai che è molto divertente scrivere liste puoi scrivere liste di link utili liste di consigli liste di regole liste di buoni propositi liste di fonti gratuite che tu hai scoperto e che vuoi condividere con i tuoi lettori tutto può essere organizzato in liste puoi certamente crearle apposta cioè un giorno decidi cui fare una lista di quel tipo e fai le tue ricerche per raccogliere gli elementi da inserire nella lista però il mio consiglio è quello di cominciare a guardare tutto ciò che ti trovi davanti agli occhi nelle tue navigazioni con un occhio speciale cercando sempre di ricordarti che tu stai collezionando liste quindi a mano a mano che ti imbatti in informazioni interessanti in programmi gratuiti in risorse gratuite prendi nota segnati i link creati delle cartelle in cui raccogliere tutto il materiale che trovi di volta in volta e così quando poi vorrai scrivere un articolo lista in realtà ti basterà entrare nel tuo archivio e troverai già delle liste tutto sommato pronte ti basterà mettere in ordine gli elementi che hai raccolto fare un cappello introduttivo però il materiale l'hai raccolto strada facendo senza fare sforzi senza nemmeno rendertene conto quindi questo è il mio consiglio simili alle liste sono le istruzioni quindi l'undicesima idea che voglio darti per scrivere articoli per il tuo blog è quello di scrivere articoli di istruzioni che in inglese si chiamano how to cioè gli articoli che spiegano come fare qualcosa sono articoli ricercatissimi sono i più cercati in realtà dai lettori perché tutti cerchiamo sempre come fare qualcosa sono testi regolativi quindi devono essere scritti con un linguaggio semplice diretto frasi brevi molto chiare perché lo scopo è quello di spiegare ai lettori qualcosa che loro non sanno o che non sanno fare se vuoi scrivere un articolo how to devi però essere sicuro di conoscere tu per primo nel dettaglio l'argomento che ti accingi a spiegare e poi di saperlo esporre con chiarezza ho già detto altre volte che in realtà molte persone credono di sapere le cose poi in realtà non riescono a spiegarle perché sapere e saper spiegare sono due passaggi un po' diversi quindi assicurati non soltanto di sapere i passaggi che vuoi spiegare ma assicurati anche che il modo in cui tu li spieghi sia chiaro quindi magari fai leggere il tuo articolo prima a qualcuno di tua conoscenza per chiedere la sua opinione evita di essere misterioso in qualche passaggio purtroppo io ho notato che molti blogger pensano di dover in qualche modo creare del mistero intorno a qualche fase di ciò che spiegano soprattutto se stanno spiegando come svolgono il loro lavoro o come hanno ottenuto il successo quindi pensano che in realtà ci sia un passaggio da tenere nascosto come fosse l'ingrediente segreto di una decetta da non svelare ecco allora a me questi articoli non piacciono e ti assicuro che non hanno successo se tu devi spiegare qualcosa la spieghi in tutte le sue parti con chiarezza e con trasparenza altrimenti se non vuoi spiegare del tutto guarda fai proprio a meno e non scriverlo nemmeno questo articolo di istruzioni perché le istruzioni date a metà sono inutili anche perché detto francamente con tutta la ricchezza e la vastità di informazioni che c'è in rete ti assicuro che se un lettore cerca l'informazione che tu sei reticente a dare ti assicuro che la trova data da qualcun altro ci avviciniamo al finale dodicesima idea per scrivere articoli per il tuo blog è quello di scrivere delle checklist cioè delle procedure è un articolo simile a quello how to simile all'articolo di istruzioni però qui l'obiettivo non è tanto spiegare come si fa una cosa passo passo perché in realtà qui si suppone che il lettore sappia già come si fa quella determinata cooperazione ma piuttosto elencare tutti i controlli e le verifiche da effettuare durante un'operazione per essere sicuri di non aver saltato nemmeno un passaggio quindi ciò che conta qui non è l'istruzione in sé ma l'ordine in cui si fanno le cose perché sappiamo bene che le operazioni giuste fatte al momento sbagliato in realtà non producono i risultati che noi ci aspetteremo quindi è anche importante rispettare l'ordine giusto per ottenere dei risultati spesso delle operazioni sono propedeutiche ad altre e quindi l'ordine dei fattori per usare un termine matematico non può essere invertito penso per esempio alla revisione di un testo è chiaro che la correzione di bozze per essere efficace deve essere fatta solo dopo aver completato l'editing io non posso fare prima la correzione di bozze e togliere i rifusi e poi andare a modificare delle parti cambiando delle scene o inserendo delle parti nuove perché poi le parti che ho modificato o le parti che ho aggiunto potrebbero ancora contenere dei rifusi perché fondamentalmente non le ho controllate quindi c'è sempre una propedeuticità che va rispettata le checklist gli articoli di checklist aiutano il lettore a ricordare qual è l'ordine giusto in cui fare i passaggi ultima idea per riempire il tuo blog puoi scrivere articoli che riguardano le novità tue e sui tuoi libri quindi usa il tuo blog per dare notizia di tutte le novità che ti riguardano come autore se hai dei libri in uscita se ti sei messo a scrivere un nuovo libro le date delle tue presentazioni letterarie le interviste che qualcuno ti fa le recensioni che qualcuno scrive per te oppure la tua presenza su nuovi canali sociali tutto ciò che tu vuoi far sapere ai tuoi lettori deve trovare spazio per prima cosa nel tuo blog il blog come ho detto all'inizio è la tua casa di autore quindi è giusto che tutte le notizie su di te e sui tuoi libri siano date proprio nel tuo blog da te allora svela i dettagli svela l'etroscena le curiosità di ogni tua nuova avventura nel campo letterario ovviamente perché stiamo parlando del tuo blog come scrittore pensa al tuo blog come la tua vetrina una sorta di piattaforma di pubbliche relazioni quindi il posto in cui chiunque cerca informazioni su di te le deve trovare di prima mano perché sei tu che devi essere il primo a dare le informazioni su di te e sui tuoi libri ecco queste sono le 13 idee per scrivere articoli per il tuo blog che io volevo darti scrivere articoli di diversa tipologia ti aiuterà innanzitutto a non annoiare il pubblico però anche a non annoiarti tu stesso e quindi ad essere anche più costante nel lungo periodo perché tenere un blog è una strategia che funziona che funziona sempre per ottenere risultati in termini di visibilità in termini di autorevolezza in termini di promozione però serve costanza quindi quando sento autori dire che hanno un blog aperto da due mesi e si lamentano di non avere risultati sorrido perché in due mesi è ovvio che i risultati non possono arrivare allora se hai voglia e tempo di dedicarti a questa attività ti consiglio veramente di farlo perché troverai grandissime soddisfazioni però ovviamente ci vuole impegno e ci vuole costanza il fatto di poter avere diverse tipologie di articolo da scrivere può aiutarti anche a superare la normale fisiologica mancanza di idee che tutti i blogger prima o poi affrontano bene io per oggi mi fermo qui mi piacerebbe sapere da te se hai altre idee da condividere magari con gli altri ascoltatori con gli altri scrittori per scrivere articoli per il proprio blog e quindi ti invito a scrivere o sul mio sito librosa.com oppure mi trovi su tutti i social sempre come librosa io ti ringrazio per avermi seguito e ti aspetto al prossimo episodio un saluto da Carmen La Terza ciao self publishing master perché il self publishing è una cosa seria è un saluto